L'Avellino della prossima settimana a partire da lunedì si allenerà sul campo Irpinia che è di sua proprietà, poi lei è stato visto in tribuna a vedere l'Avellino calcio dopo tanto tempo di assenza. Qualcuno parla di un reinserimento, di un interesse di Sibilia verso la società bianco-verde, è vero? Mi sono avvicinato per darci un po' di coraggio, poi devo vedere prima le cose come stanno, l'intenzione c'è, ma la situazione non è che a scatola chiusi a comprare una cosa, si deve indagare come sta la situazione e poi se ne parla. Quali sei libero le sue condizioni, commentatore, per cercare di prendere la società? Ma prendere la società, qua non si tratta di prendere o non prendere, non si tratta di vedere le cose come stanno economicamente, l'intenzione non è che penso che sta troppo bene. Tutti parlano che devono avere, devono dare, si deve vedere se è vero, è vero, è una ragione loro, loro dicono che hanno i debiti, in giro si dice che hanno i debiti, perciò si finisce questo campionato e poi vediamo. Insomma lei non smentisce un certo interesse perché l'Avellino l'ha avuto sempre nel cuore. Ma non è quello, per dare un po' di coraggio anche ai tifosi, anche a loro stessi, come a mia pelle, perché ho visto che stanno troppo abbattuti, un po' perché i risultati non vengono, un po' perché la squadra va e non va e basta. Adesso si è riavvicinato in qualche modo anche ai fratelli Marco e Massimo Pugliese, no? No, Massimo Pugliese ha detto, dai, io non mi ci parlavo nemmeno, mi ha chiamato un giorno, ti posso parlare un po', mi ha chiesto un po', mi ha chiesto un po', si poteva fare nemmeno sul campo perché il campo là sopra, anzi che è un campo di sottofondo, non è stato mai buono, non ho voluto dare la discarica quando mi hanno creato, a me invece è tutta un'altra cosa, a me è tutto come l'ho fatto, così è rimasto. Ecco, intanto qualcuno si chiederà, ma Antonio Sibilia ce l'ha le potenzialità per poter rientrare nel mondo del calcio e per poter rilevare la società dell'Avellino? A me mi manca solo una cosa, mi manca l'età, poi se non mi manca niente, quelli che pensano loro, io tengo quelli che non tengono loro, a me. Quello che non c'hanno loro possiamo provare a indovinare, Don Antonio? No, io dico, se mai capito mi ha capito, a me mi manca l'età che tengono loro, ma parliamo chiaro, io la sua amica l'ho avuta pagata ancora, ma io non mi sono dimenticato, non penso più a questo. Il campo non c'è più, tutte queste cose qua, ma questa non è una colpa nell'ora, è stata anche di Casillo, ma a Casillo chi ha portato? Per il prossimo campionato è fantascienza o potremmo pensare a Antonio Sibilia, presidente con Marco e Massimo Pugliese in società? No, no, io adesso sto pensando, si deve vedere, i bilanci loro come tengono, dopodiché se ne può parlare, ma se i bilanci sono fatti un po' disastrosi, non ci penso nemmeno, io sono di lavoro, io non nemmeno parlo. Posso chiederle come mai ha festeggiato il suo compleanno con il Botto, con un festival di fuochi pirotecnici che in Irpina non si erano mai visti? Ma anche per farci vedere, queste persone che fanno un sacco di manifestazioni, fuochi, queste e quell'altro, che poi in sostanza i dubbi di soldi non fanno niente, per farci vedere il fuoco come si fa, anche su quello, io voglio insegnare pure quello. Dica la verità, commentatore, che lei ci sta preparando un altro grosso botto? No, le cose vanno bene, le facciamo una l'altra. Una l'anno di fuoco? Eh, una l'anno, se le cose vanno bene, per me le cose che faccio il curo bene, non è che faccio i passi più lunghi nella gamba, faccio quello che posso. Qualcuno che invece dice che Antonio Sibiglia è la storia del calcio vellinese, però adesso sono cambiati i tempi, ci sono procuratori, manager, il calcio si fa in modo diverso, lei cosa risponde? Non è vero proprio niente, dipende di quello che gestisce, quello che deve fare e quello che non deve fare, quello che può e quello che non può, questo è tutto, non è che sono cambiati. Cambiate che cosa? Se non gestisci bene, qualsiasi tempo sono, è sempre sbagliato. E' vero che il suo sogno era di diventare presidente del Napoli calcio e per un soffio solamente non si è seduto al posto di De Laurentiis? Io salendo Napoli, Benevento, non l'ho mai voluta perché ogni calcio che andrà a portare su, io sono vellinese e mi piace stare con l'avellino, l'ho creato io l'avellino, non mica hanno creato questa gente, questa gente che hanno fatto, non hanno fatto niente. Io sono partito e si giocava con l'altra parte e mano a mano sono andato avanti da solo, se non c'è nessun aiuto di nessuno, adesso senza questo, senza quell'altro, chi vuole contributo, adesso che si chiesti, quanti si chiesti, quanti si chiesti, non si contributi? Mai, non ho voluto mai dire, eppure sono andato avanti 50 anni. E infatti auguri, complimenti, intanto c'è un suo amico che sta facendo bene nella palla a canestro, Vincenzo Ercolino, gli fa piacere di questo suo successo? Sì, ma Ercolino è un ragazzo che sta andando con me, è un ragazzo che, però ha bisogno che pure lui ti aiuti, se no tieni e tieni, poi dopo lui, se non aiutano, dove va? Lei dice le istituzioni, chiede... Più soldi, più questo e quell'altro, però se Ercolino riesce a farli firmare, e tieni anche l'anno prossimo una squadra. Vorrebbe Ercolino con lei in una futura società dell'Avelino Calcio? Ma Ercolino è stato sempre con me, quindi ci si è già nato con me, con me, ma Ercolino è volenteroso, è orgoglioso, non è uno che... fa pure quello che può fare, ma non è... è un bello momento, se non aiutano, che fa? Poi siete entrambi imprenditori edili, secondo lei, commentatore, è più facile allenare, tra virgolette, una squadra di operai o una squadra di calciatori? Ma guardate, oggi è difficile, tutte le leggi, anche a costruire diventa una cosa difficile, bisogna organizzarsi per bene e poi partire, non è che è facile. Poi ci sono tutte le leggi, se morte bianche, se cose... anche questi sindacati, i spettorati, come è bello, profittano per buttare altre gente a lavorare, a non fare niente in mezzo. E' inutile che esagerano con i dettatori di lavoro, sapete, con l'impresa, sapete, con questi... Anche per sempre quelli che morenano, perché se si stessero poco più accorti, e vai su, che tiene a casa sua, perché non arriva fino a un mese, perché questo, perché quell'altro, perché... E tiene a casa i famigli, che non va bene, sta sul lavoro distratto. E succede, la distrazione, anche secondo i soldi, ci voglia. Lei, da una vita che lavora nei cantieri, conosce più o meno gli ambienti del lavoro e dell'edilizia. Si è parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma si è parlato anche della Camorra, che in Irpinia tiene nel mirino tanti imprenditori. Io personalmente la Camorra non la conosco proprio, perché, come sanno benissimo, mi possono pure ammazzare, perché io Camorra non la conosco, ma... E questo è successo da anni fa, perché due o tre volte sono riusciti, perché io, dopo, doveva cosa. Ma voi, Camorra, 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 ma qua, stanno pure i Camorra bianchi, parliamo chiaro, parliamo di morte bianche, stanno pure i Camorra bianche, però. Cioè, i colletti bianchi, quelli insospettabili. È naturale, parliamo di Camorra. Uno che può mangiare è il Camorra per me. Ecco, passiamo alla politica. Lei che ha tanti amici, anche qualche nemico, dire la verità, mai pensato di candidarsi, commentatore? Ma io sono stato candidato ai comuni, Mercogliana, Avellini, come è stato eletto, sempre prima eletto. Io voglio solo lavorare in tante pace e a sera mi devo fare una partita. Si perde tempo con la politica. A me non... Dove piace? Lei voterà per Berlusconi, però, perché suo figlio Cosimo... Io ho conosciuto Berlusconi perché ci ho venduto a Stante vent'anni fa, a Berlino. E sono andato a Milano a 2 e l'ho conosciuto là. Da allora conosce Berlusconi. E forse dalle l'ho creata io, Avellini. Una sera da Mercogliana è andata Avellini. E mio figlio lo cantare allora e si è andato tre volte alla Regione. Ecco, commentatore, intanto mi hanno detto che il suo numero di sigarette è calato di parecchio. No, una volta fumava almeno 100 sigarette al giorno. No, no, non ho mai fumato più di 20 sigarette al giorno. 20, 22, 23, ma adesso 7, 8 al giorno basta. Basta così. Poi mi dicono che a carte è sempre imbattibile. Come fa? Fintando che il cervello funziona. Anche a carte, per esempio. Quando uno gioca a carte, deve pensare che sta giocando a carte. Si tiene qualche guai per la testa. Non deve pensarci. E così è sopra i lavori. Perché ci sono dei guai. Ma è naturale. Quando uno è distrante, è distrante. La distrazione è brutta bestia. La distrazione è brutta, è brutta, è brutta, è brutta, è brutta, è brutta. La distrazione è brutta, è brutta, è brutta, è brutta.